Buongiorno a tutti, siamo a Milano, all'Hotel Michelangelo, al convegno Contate Medianità. Abbiamo con noi Silvana Borile, counselor di Voice Dialogue ed esperta di training autogeno. Buongiorno Silvana. Buongiorno. Angeli, entità o sé interiori? Questo è il tuo intervento al convegno di oggi. Vuoi darci un breve flash o parlarcene? Un passaggio. Sì, il discorso è molto collegato al Voice Dialogue, che è la costellazione dei sé e che vede come noi siamo a contatto solo con una minima parte di noi. Metti il 5, il 6, il 7%. E quindi noi viviamo con questa personalità, ma in realtà una grande parte di noi è sconosciuta o addirittura rinnegata. E quindi nella parte, diciamo, di rinnego, nella parte sconosciuta, ci possono essere molti aspetti, molti sé, che portano delle facoltà intuitive, che hanno un alto valore spirituale. Quindi il pensiero è questo, che pur non contestando l'esistenza di angeli e di entità, però mi preme sottolineare che in molti casi si tratta di parti di noi a un livello molto particolare. Quindi questi nostri sé sono i nostri alleati e ci portano delle doti e delle facoltà che non sappiamo di avere. Direi di lasciare aperta la possibilità che non sempre si tratta di angeli o di entità, ma che sono delle parti di noi a un livello veramente alto. Io vedo quando mi capita di fare channeling individuale, quello che succede è che ogni volta c'è una guida diversa, ma io penso e sento che sono o dei sé dell'altra persona di chi consulta, o delle mie parti che sono a un livello veramente particolare. Invece ti è mai capitato di canalizzare angeli o entità? Se l'ho fatto non ho sentito una grande differenza tra sé interiori o angeli, perché penso veramente che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di altre parti di noi. D'altronde se pensiamo che conosciamo neanche il 10% di noi stessi, possiamo immaginare quanto ci sia di patrimonio, di talenti, di valore nell'altro 90%. E con il Voice Dialogue si fa proprio questo lavoro di andare a trovare queste parti, di incontrarle, di farle vivere. E così noi siamo più ricchi, più completi e riusciamo ad affrontare meglio personalmente i problemi della nostra vita, senza aspettare che siano entità esterne a aiutarci a eliminare i problemi, ma noi diventiamo veramente attori e registi della nostra vita. Quindi tu ci parli della possibilità per noi tutti di poter canalizzare? Oppure la famosa domanda, channeler si è o si diventa? Guarda, rispondo all'ultima, channeler si è o si diventa? Probabilmente c'è una predisposizione dalla nascita. Personalmente ho scoperto di essere una channeler, un'intuitiva, una sensitiva, quando ho fatto il training autogeno, non a caso poi lo porgo ai miei clienti, perché è veramente un ribaltamento di vita, una scoperta di sé eccezionale. E quindi diciamo che channeler si può anche diventare. In realtà il contatto con i sé interiori che portano l'intuizione, la spiritualità, sono degli aspetti nostri energetici che possono andare in onda, quindi aiutarci quando dobbiamo scegliere un lavoro, vedere se ci possiamo fidare di alcune situazioni o di alcune persone, o farci essere più in empatia, più in connessione con gli altri. È una ricchezza eccezionale. Secondo la tua esperienza, perché non tutti riescono a mettersi in contatto con i piani sottili? E tu stessa dici con le tue parole che ad alcuni è occultata la possibilità di comunicare. Proprio perché siamo circoscritti in uno spazio molto stretto, è come se noi fossimo totalmente un cerchio, e in realtà viviamo in un settore, in una fettina di questo cerchio. Confinata nella fettina abbiamo alcuni aspetti, alcune capacità. Nella fettona, cioè in tutto il resto, c'è anche la capacità di canalizzare, di entrare in contatto con le guide interiori, di avere la veggenza, l'intuizione. Perciò la soluzione è nell'entrare in contatto con i sé interiori. Non è una cosa che si può fare da soli. Ci sono moltissimi metodi, io amo il voice dialogue, perché è un sistema molto veloce per entrare in contatto con queste parti. E la vita poi cambia. Tu oggi dici che i medium non hanno più bisogno di entrare in trans per dare messaggi. E allora la domanda è perché oggi e perché una volta invece avevano bisogno di entrare in trans. Oggi cosa è cambiato rispetto ad allora? L'evoluzione. Così come oggi abbiamo dei mezzi meccanici sofisticatissimi, un tempo non c'erano, adesso anche noi come strumento siamo diventati più ricchi, più completi, più sofisticati. Perciò un tempo, diciamo, agli esordi dello spiritismo c'era questo sprofondamento. Adesso, in genere, c'è una maggiore coscienza. C'è uno stato particolare quando c'è la connessione, però in genere il channel resta cosciente. E questo ci dice che c'è stato anche qui un'evoluzione nell'umanità. Evoluzione in cui io credo, ma credo fermamente, che sia legata all'impegno personale di fare una crescita. Quindi non aspettare, come si dice, che venga buona, che cambino le cose, ma noi abbiamo un potere enorme dentro. Entrando in contatto con questi aspetti, siamo in grado di modificare la nostra realtà. Cosa ci attende, secondo te, dal momento che si parla tanto di 2012? Guarda, io non mi sono molto soffermata su questo 2012, perché da sempre c'è stato un anno che è stato focalizzato con determinate caratteristiche. Faccio un passo alla volta, giorno per giorno, la cosa migliore è vivere bene qui e adesso. Poi, quando saremo al 2012, se saremo tutti più ricchi interiormente, e forse anche esteriormente, perché le cose possono andare di pari passo, comunque sia la situazione allora, avremo vissuto bene adesso e anche dopo. Grazie di essere stata con noi. Grazie.